Tutte venivano vendute. Alcune venivano usate. Ciao. E poi uccise. Quante persone sei riuscita a far arrestare l'anno scorso? Meglio che non te lo dica. Li rapivamo. Libero, libero, via! Fermo, polizia! Ma non per volere nostro. Sono sparite. Non sono le 5 o 6 che avete scoperto. Voglio guardare in questi container adesso. Sono più di 40. Fai un bel respiro e tratti a via per 5... 4... 3... 2... 1... Via, 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 via! Abbiamo un problema. Qualcuno della vostra operazione era in qualche modo coinvolto. Fermo la macchina! Kommando! Chiara. 550. Per rim, San Diego. Siff. Stroom. Stroom.